Ciao, io sono Tommaso e oggi riprendiamo a mano i Power Beans di DaVinci Resolve per le transizioni di Messiah. Ne avevamo già parlato in un altro video che trovate di sicuro qui sopra, cioè le transizioni di Messiah, come funzionano e come andare ad installarle all'interno di DaVinci Resolve, ma oggi parliamo della novità che è stata implementata grazie alla versione 1.3 dei pack di Messiah, dove c'è la possibilità di lavorare direttamente con i Power Beans. Cosa sono i Power Beans? Come cosa sono i Power Beans? Ve l'ho spiegato nell'altro video, dateci un'occhiata, lo trovate qui sopra e capirete l'utilità di questi Beans che appunto possono essere utilizzati in più progetti. Veramente, veramente interessante. Ma bando alle ciance e diamo subito un'occhiata all'interfaccia di DaVinci per capire come andare ad inserire i nuovi pack di Messiah. Come potete vedere qui abbiamo ancora i Power Beans che abbiamo utilizzato l'altra volta come esempio, che erano i Power Beans legati ai miei intro e outro. Ho inserito anche un PNG, utilissimo per le miniature dei video che faccio su YouTube, ma oggi quello che ci interessa è inserire le transizioni di Messiah. Come faccio ad inserire le transizioni di Messiah? Innanzitutto vado ad aprire il mio Project Manager e creo una nuova cartella. Creo una nuova cartella all'interno dei miei progetti per fare dell'ordine, in modo che poi possa avere tutto ordinato, solo per la prima volta. Quindi creo una nuova cartella che chiamerò Messiah PEX 1.3 e all'interno vado ad importare i miei DRP. Se non avete visto il primo tutorial che è un po' più dettagliato su come importare i DRP, lo trovate anche questo qui sopra. Pulsante destro. Andiamo ad importare un progetto. In questo caso i miei progetti si trovano all'interno di Messiah, Messiah for Power Beans 1.3.1 e vado ad importare il mio primo progetto che è TEXT TRANSITIONS 1.3. Li importo tutti. Vado ad aprirli, creo un nuovo bin, Power Bin, anche qui sotto, che chiamerò Messiah 1.3.1 e inizio a metterli all'interno. Ho preso il primo, vado ad aprire il secondo. Vado ad aprire il terzo E proseguo per tutti i pacchetti. Come avete ben visto tutti i media sono offline, quindi dovrò semplicemente cliccare con il pulsante destro e rilincare tutte le clip for i selected bin. Si trovano all'interno dei miei download e acquisti, in questo caso all'interno di Messiah for Power Beans 1.3. Ed ecco che sono stati tutti rilincati, quindi se io vado ad aprire un qualsiasi link vedete che automaticamente li ho tutti rilincati. Una cosa molto comoda, fin quando DaVinci Resolve non deciderà di creare le anteprime anche all'interno di questa sezione dei Power Beans, me l'ha suggerita direttamente Mayer, la persona che ha creato i pacchetti Messiah appunto, ed è questa qui. Andare a ordinare i nostri pacchetti, prendo questo ad esempio, per clip name. Se fossero per duration vedete che li abbiamo separati, quindi io qui riesco a visualizzare la mia anteprima, attivando ovviamente il live media preview, ma dopo non riuscirei a capire a quale pacchetto appartiene. La cosa più comoda e più intuitiva che abbiamo trovato è quella di gestirli per clip name, di modo che mi crei, ovviamente devo tenere due colonne qui, mi crei shadow window, shadow window, quindi questa sarà la mia transizione legata a questo. Facciamo un esempio più semplice, adesso ci spostiamo all'interno di un altro progetto, usciamo da questi che tanto non ci si vedranno più. La cosa interessante è che quello che ho fatto adesso lo fate la prima volta, poi non serve più. Entriamo all'interno di Messiah Test, test transizioni, vado a recuperare qualche file qui, li buttiamo come al solito all'interno della nostra timeline, e ora vado, vedete che i miei Power Beans sono attivati, o ragazzi se non trovate i Power Beans perché non li avete attivati, li trovate all'interno di View e Show Power Beans qui in basso. Andiamo a recuperare il nostro wipe per esempio, quindi entriamo in Messiah, voglio vedere quale mi interessa andare ad inserire e sceglierò magari questo wipe qui che mi piace, non andrò a recuperare l'anteprima, andrò a recuperare l'adjustment clip qui di fianco. Ho attivato lo snapping, quindi lo disattivo per andare a mettermi a metà del clip, per essere un po' più preciso magari mi avvicino, ok, ed ecco la nostra clip. tolgo un attimo l'audio. Se lo vedeste a scatti, potete comunque andare ad attivare qui sui tre pallini Show All Video Frames. Ci spostiamo più avanti, vedete che posso anche andare a decidere di inserire un suono. Adesso in questo caso magari muto questa di modo che possiate sentire il suono. e posso andare ad inserire tutte le mie transizioni. Posso sempre scegliere grazie all'anteprima sulla destra. Mi piace questa, prendo la mia adjustment clip e lo porto qui all'interno. Ed ecco la mia clip con la mia transizione. Bene, anche questo tutorial dedicato all'installazione del nuovo pack 1.3.1 di Messiah all'interno di DaVinci Resolve è terminato. Se vi è piaciuto il video, se pensate che possa esservi stato utile, mettete un bel like. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. C'è anche uno sconto qui sotto in descrizione, trovate uno sconto del 25% sul pacchetto completo che trovate sempre qui sotto nel link in descrizione. Vi ricordo che gli appuntamenti su questo canale sono il martedì con le dirette, il mercoledì con le videoproduzioni e con i tutorial e il giovedì con le pillole di DaVinci Resolve. Non mi resta che salutarvi e dirvi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!